E' finita la guerra ma davvero è pure assicurata ma la guerra del quindici sedici. Chi è? Mi vuoi? Senti perché non ci vediamo dopo la guerra? Abbiamo una spia tra i soldati capitano e non credo, non credo che torna. Spastanti! No! No! Non bollare! Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Niente da perdere. Cos'è? Gulasch. Sto gulasch non ho un po' noto. Gulasch. Che raccettai? Gulasch. Mmm! Che buon profumino! Tra qualche minuto voi potreste essere cibo per vermi. No, non è possibile. Cioè ci hai messo l'erba dei frati qua dentro? Ma ci hai preso per delle bestie, per delle capre? Ma sì dai, neanche stia cucinando merda. Allora, la prenderò alla lontana. No! È il futbol, ragazzi!